Ben trovati, oggi ne sapremo di più del centro Argos di Nettuno che è specializzato nella pluridisabilità e si occupa prevalentemente di degenti dai 0 ai 18 anni. Mia compagnia è il dirigente sanitario del centro Argos, che ho il piacere di presentare, salve dottore Enrico Bisante. Mi dico una cosa, rompiamo subito il ghiaccio, quando è nato il centro Argos? Noi abbiamo avuto l'autorizzazione nel 2004 e siamo operativi però dal marzo, cioè i lavori della struttura sono finiti nel 2004, noi siamo operativi dal marzo del 2006. Quindi un centro di ancora breve corso, diciamo però nonostante la giovane età del centro e nonostante ospiti dei genti di giovanissima età, già so che attraverso di voi sono passati numerosi bambini con le loro famiglie, così facendo un calcolo, sa dirmi immediatamente quanti bambini avete accolto? Dunque fino adesso abbiamo valutato da un punto di vista funzionale, non solo visivo ma anche neuropsicomotorio eccetera, circa 280 bambini, bambini provenienti da tutta Italia, diciamo la stragrande maggioranza di questi bambini sono del territorio laziale, perché il centro è a Nettuno vicino a Roma, quindi vengono soprattutto bambini di Roma e provincia, però siamo conosciuti anche a livello nazionale per cui vengono per una valutazione e poi eventualmente per un soggiorno intervento precoce bambini da tutta Italia, quindi complessivamente diciamo intorno ai 280-300 bambini. 280-300 bambini affetti da diverse patologie, non soltanto visive diciamo che è la vostra specializzazione, lei è il dottore oculista, ma anche bambini che hanno disturbi cognitivi, disturbi motori eccetera. Sono rari i bambini che hanno soltanto un problema visivo, la stragrande maggioranza di questi bambini hanno appunto una pluridisabilità, per questo l'approccio riabilitativo del centro è pluridisciplinare, esistono diverse figure che lavorano con questi bambini, ognuno con la propria competenza. Ecco, che tipo di professionalità, che tipo di figure si possono ritrovare nel centro Argos, fisioterapisti? Diciamo come il personale sanitario medico, a parte me che sono appunto un oculista, c'è una neuropsiciatra infantile, poi c'è una pediatra, c'è una psicologa e ci sono due pedagogiste che lavorano per quello che riguarda l'integrazione scolastica, l'aspetto pedagogico eccetera. Poi ci sono le vere e proprie figure riabilitative classiche come il fisioterapista, il neuropsicomotricista che lavorano sull'aspetto motorio, il neuropsicomotricista lavora naturalmente anche sull'aspetto cognitivo e quindi sul ritardo mentale, sul disturbo comportamentale eccetera. Poi c'è l'ortottista che è il terapista che lavora per la stimolazione, abilitazione e riabilitazione visiva, c'è il logopetista e poi ci sono altre figure professionali che nel quadro di un'equipe pruridisciplinare danno il loro apporto per quello che riguarda l'impostazione relazionale del bambino, quindi abbiamo un musicoterapista, abbiamo degli operatori della petterapia, c'è la terapia con gli animali, abbiamo il terapista che lavora in acqua, in piscina. Quindi diciamo che è offrito un servizio a tutto tondo a coloro che si rivolgono. Certamente anche perché appunto sono bambini che hanno tanti problemi e su ogni aspetto dei singoli problemi bisogna lavorare ed integrare nell'insieme tutta l'equipe. Credo che però l'aspetto più importante sia che non vi limitate a seguire soltanto il bambino con le sue problematiche evidentemente, ma offrite un supporto e un sostegno molto valido alla famiglia e quindi cercate anche, mi diceva, di ricreare una sorta di, come possiamo definirlo, di nido familiare, di contesto in cui poter operare nel migliore dei modi, quindi non so, la vostra struttura si distingue anche per colori, per toni familiari, per non indossare il camice che già può intrattenere una distanza rispetto al bambino, giusto? Mi diceva che avete anche una cura dei dettagli in questo. Il nostro centro non è una clinica, non è un ospedale, è un luogo dove si fa riabilitazione, cioè si lavora per il bambino, con il bambino e insieme ai genitori. Ed è per questo che è una struttura, diciamo, il più accogliente possibile, proprio perché è necessario che il bambino non abbia subito un impatto negativo con una struttura di riabilitazione. Spesso questi bambini hanno avuto un vissuto emotivo ospedaliero molto, molto forte e questo è il primo impatto negativo rispetto alle loro problematiche e quindi spesso i bambini si chiudono, no? Quindi bisogna in qualche modo rassicurarli e far capire che lì invece c'è un ambiente ospitale pronto ad accoglierli in qualche misura. È come se fosse un asilo, come se fosse una scuola, non è chiaramente il termine giusto per indicare il centro, però è una struttura che cerca di essere accogliente proprio perché se è accogliente il bambino è più disponibile e quindi il bambino è più collaborante alle attività che poi si possono fare con lui. Una cosa, sempre riguardo alla struttura, parliamo un po' degli spazi, so che avete una sala convegni, so che avete una piscina, so che avete stanze deputate anche al pranzo perché no, dei bimbi, delle loro famiglie, quindi una struttura in grado di far fronte a tutte le necessità che si presentano, giusto? Il centro è una struttura molto grande a tre livelli che ha diverse stanze dove ognuna di queste stanze vengono effettuate queste attività riabilitative che dicevamo prima e sono stanze in genere abbastanza grandi proprio perché io credo che soprattutto per un bambino che abbia un problema di tipo visivo, il creare un ambiente ampio consente al bambino di rapportarsi più facilmente con ciò che lo circonda e chiaramente magari invito voi ad andare sul sito a vedere magari dei piccoli filmati che potete trovare sul nostro sito. Allora mi permetta www.centroargos.it per poter consultare. E sul sito ci sono appunto dei filmati dove si possono vedere. La struttura di per sé è grande, ha un grandissimo parco attorno, da pochissimo abbiamo anche inaugurato una piscina riscaldata dove poter fare attività non soltanto nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale, ma non le so dire quanto è grande. Veniamo alle note dolenti se così si possono definire. Nel senso i costi, ecco, chi vi aiuta, chi vi sostiene in questa opera per molti aspetti meritorio? Quindi avete un supporto nelle istituzioni oppure dovete vedervela tutti da soli e quali sono i costi? Questa è la domanda che credo più preme alle persone che ci ascoltano, che bisogna sobbarcarsi per venire da voi, ecco. Dunque noi siamo stati autorizzati come strutture ex articolo 26 e quindi come tutte le strutture ex articolo 26 dovremmo essere convenzionati, questo è quello che stabilisce la legge. Essendo il centro a Nettuno, quindi facendo riferimento alla regione Lazio, purtroppo la sanità da noi ha un grosso deficit e quindi siamo ancora in attesa, nonostante abbiamo avuto l'autorizzazione nel 2004, in attesa della convenzione che sicuramente arriverà, però purtroppo ancora non abbiamo una data precisa in cui saremo finalmente convenzionati. Per il momento sono appunto i genitori a farsi carico direttamente delle spese in attesa del sostegno da parte della regione Lazio. Per questo abbiamo cercato, stiamo fortunatamente ottenendo anche dei buoni risultati, abbiamo cercato il sostegno di alcune fondazioni che con il loro contributo riescono in qualche modo ad aiutare soprattutto le famiglie più disagiate. Chiaramente i costi delle terapie sono impostate sulla base del reddito, della famiglia, quindi se è un reddito molto basso ci sono delle fondazioni, delle associazioni che li sostengono, quando il reddito è un pochino più alto invece la retta viene pagata direttamente da loro. In attesa, ripeto, del giusto contributo da parte della regione Lazio che credo sia proprio un dovere, un paese civile. Però mi permetta di dire che c'è anche la possibilità per chi ci sta guardando da casa di darvi una mano, un contributo in misura piccola ma significativa attraverso la sottoscrizione se non erro del 5 per 1000. In questo momento dovrebbe anche uscire in sovrimpressione il vostro riferimento, le vostre coordinate per poter fattivamente dare una mano a quello che fate di bello, di buono ogni giorno nel Centro Arcos. Mi viene da dire che noi siamo italiani e fra italiani ci si aiuta, il popolo italiano è un popolo veramente generoso, proprio perché stiamo in attesa del giusto contributo che ci dovrebbe essere da parte della regione Lazio e nel frattempo però le specie ci sono e quindi se le persone ci aiutano, ecco quei soldi non è che vengono intascati da noi per andare alle Seychelles ma vengono proprio utilizzati per sostenere questi bambini, perché ripetiamo le attività hanno successo se vengono fatte a livello precoce, cioè prima si interviene con questi bambini e con un'attività pluridisciplinare variegata e più alti sono i risultati, però purtroppo questo ha un costo e è inutile nasconderlo, gli operatori devono essere pagati. Indubbiamente, lei diceva che il popolo italiano poi da questo punto di vista si è sempre dimostrato molto sensibile, laddove anche poi c'è una serietà di fondo e mi sembra appunto che il centro Argos in questo non difetti ma operi come si deve nell'affrontare piccole grandi problematiche che riguardano i nostri figli più in generale. Una cosa, io vorrei, è mia veramente grande preoccupazione, far capire a chi ci sta seguendo in questo momento che cosa accade nel centro Argos. Nel dietro le quinte noi abbiamo fatto una chiacchierata e mi spiegava attraverso esempi semplici ma molto significativi a mio avviso che cosa capita a un giovane paziente, non so. Pogniamo il caso di un bambino che ha un grave problema visivo collegato alla vista che viene portato dalla famiglia presso il suo centro e si trova di fronte a lei. Che cosa succede effettivamente? Vorrei capire, ci porti per mano all'interno della struttura e ci faccia capire che cosa accade. Come prima cosa è fondamentale capire quanto il bambino vede e soprattutto come vede. Un bambino sano in pochi mesi, subito dopo la nascita, ha un raggiungimento delle tappe neurofisiologiche rapidissime e quindi in pochissimo tempo già inizia a guardarsi intorno, ad esplorare e a comunicare visivamente con i genitori. Un bambino prematuro, un bambino che ha avuto una sofferenza neonatale, perinatale, prenatale, secondo i casi, è un bambino che ha avuto un arresto di questo sviluppo e quindi da un punto di vista neurofisiologico non ha percorso quelle tappe che usualmente un bambino normale percorre nei primi due o tre mesi di vita. Per cui ad esempio in genere i bambini vengono da noi con una diagnosi di cecità, quando invece non si parla di cecità, di non abilitazione al sviluppo, che è ben diverso. Quindi sono bambini che ad esempio hanno gli occhi che si muovono, no? Tecnicamente viene definita questa cosa un istagmo, ma in realtà non è un vero e proprio un istagmo, sono dei movimenti erratici degli occhi, cioè gli occhi si muovono nello spazio perché semplicemente non hanno imparato a fissare ciò che noi facciamo nel... Mi può fare quell'esempio che mi faceva nel diatro alle quinte che a me personalmente ha molto colpito? Cioè si inizia anche banalmente per fare delle prove e per capire il tipo di difetto, no? Sì, cioè inizialmente la riabilitazione ha proprio lo scopo di accompagnare e guidare il bambino nello sviluppo neurovisivo e quindi queste tappe che dicevo prima, che non sono state raggiunte dal bambino, le si insegnano attraverso la riabilitazione. La prima tappa è la fissazione, l'aggancio visivo, cioè dicevamo prima che i bambini hanno questi movimenti erratici degli occhi perché non hanno la capacità di controllare l'attività muscolare nell'aggancio del visivo, per cui la prima tappa sarà appunto quello, attraverso la stimolazione di visiva, di insegnare al bambino a fissare lo sguardo su un oggetto, un oggetto che poi sarà in movimento, quindi questo atto viene chiamato inseguimento, per cui si insegnerà al bambino a seguire l'oggetto durante il movimento. Quindi nello spazio. Sì, nello spazio, lungo il meridiano orizzontale, inizialmente è la cosa più semplice, poi verso il meridiano verticale che è un pochettino più complesso, diciamo nell'elaborazione funzionale e poi dall'inseguimento ci sarà la possibilità di saltare lo sguardo da un oggetto all'altro, cioè si insegna attraverso l'albitazione quelle tappe che il bambino spontaneamente non è riuscito a raggiungere. Quindi piccoli gesti che fanno capire però grandi problematiche che ci possono essere dietro. Siccome i tempi sono stretti, dottore, io la invito a formulare, non so, un desiderio, quali sono le aspettative del centro Argos? Che cosa farà da grande il centro Argos? Cosa si propone? Beh, siccome credo che la riabilitazione sia un atto che si basa molto, non solo sulla professionalità dell'operatore, ma sulla sua creatività, prima parlavamo dell'attività predisciplinare e quindi dell'interazione che ogni operatore deve avere con le altre figure professionali, ci sono ancora delle attività che noi non abbiamo inserito nell'ambito del progetto Argos, perché ancora non abbiamo trovato le figure professionali. Quali sono queste attività? Ecco, per esempio, mi piacerebbe molto integrare lo sport. Credo che lo sport, al di là, diciamo, dell'aspetto agonistico, sia comunque un mezzo che può consentire al bambino di tirare fuori tante cose e un bambino anche con predisabilità può fare sport. Certo, è un'occasione per socializzare, per… Esatto, e quindi mi auguro di trovare, diciamo, un professionista che sia in grado di integrare l'attività sportiva in quello che può essere un progetto riabilitativo. Ecco, una battuta per concludere. Che cosa dovrebbe imporre il codice deontologico di un terapista? Di non arrendersi mai. Cioè, io credo che per quanto il bambino possa avere dei problemi gravi, in alcuni casi anche gravissimi, lo scopo dell'operatore è quello comunque di trovare sempre una soluzione alternativa e di non dire non so che fare. Questo credo che sia un… estremamente mortificante per un professionista. Io ho la fortuna di avere dei collaboratori che appunto lavorano con entusiasmo in quello che fanno e soprattutto hanno un continuo aggiornamento, proprio perché si impara sempre dal dal confrontarsi con gli altri. Quindi anche se necessariamente un neuropsicomotricista lavorerà nell'ambito della neuropsicomotricità, il fatto di confrontarsi per esempio con altre figure professionali può dargli modo comunque di crescere dal punto di vista professionale e quindi di offrire al bambino delle nuove possibilità, delle nuove strategie che possono migliorare le loro condizioni di vita. Io la ringrazio, dottore. Il messaggio conclusivo allora è mai arrendersi. Centro Argos, Nettuno, in via Santa Maria Coretti 78, 06 98 59 484. Grazie a tutti, alla prossima. Arrivederci.